ben trovati ad un nuovo video tutorial firmato fabio ambrosi punto it stavo riflettendo sul fatto che io vi ho insegnato ad utilizzare premiere per montare video e stavo riflettendo sul fatto che ci siamo concentrati sempre sul come si monta un video cioè su come si taglia un video si sposta un video si come si si croppa si mettono effetti come si esporta come si renderizza come si importa come si impacchetta come si cambia il colore come si mettono i titoli come si mette la grafica come si usa after effect per mettere la grafica eccetera 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 ma abbiamo parlato pochissimo dell'audio ed è un male è un male perché se voi andate online visitando qualsiasi sito di informazione che può essere il corriere della sera che può essere il fatto quotidiano che può essere il foglio che può essere libero che può essere che può essere repubblica trovate dei video magari che sono bellissimi da da dieci e lode alto valore giornalistico girati con delle camere fighissime fuochi e controfuochi tagliati montati perfettamente e poi però quando ascoltate l'audio dite peccato se l'audio fosse stato perfetto era una clip perfetta invece purtroppo spesso per fretta spesso per disattenzione si cade proprio sulla parte audio di una clip ed è un peccato perché se ci pensate bene l'audio costituisce il 50 per cento di un video ok quando andate al cinema e guardate un film mettetevi i tappi alle orecchie lo guardate e dite bellissimo però senza audio non è la stessa cosa oppure prendete un film di paura tipo it o non so un film che vi spaventa dai qual è un film che vi spaventa la casa se siete un po' anziani vi ricordate della casa o nightmare un film dell'orrore ecco metteteci sotto un pianoforte stile ragtime tantarantata stile anni venti cambia tutto no questa dimostrazione del fatto che l'audio in una clip video è fondamentale e noi nel corso di montaggio video con adobe premiere pro abbiamo parlato di come si monta dedicando poco appena il 10 per cento forse al montaggio del suono e questa è colpa mia perché ovviamente anche io non ho dato la giusta importanza a questo aspetto della creazione di contenuti multimediali questa sera o meglio quest'oggi non dico che recuperiamo perché servirebbe un corso solo per il montaggio dell'audio e non lo farò adesso però voglio mostrarvi che cosa significa sonorizzare una clip video e quanto sia importante dare il giusto valore al suono di una clip video con una premessa la clip che vedrete è una clip brutta montata male in fretta in furia e anche l'audio che sentirete non è proprio dei migliori però è di aiuto per capire quanto una sonorizzazione quindi dare il suono a delle immagini che magari il suono non lo hanno possa essere d'aiuto e cambiare completamente il destino di un oggetto multimediale come piace definirli definirli a me prima di andare a vedere la clip video montate il cappello che ormai sto portando quasi come fosse un porta fortuna perché da quando ho questo cappello vi state iscrivendo di più a questo canale youtube qua sta il bottone qua mi pare sia qua e state commentando per insultare il cappello quindi io vi ringrazio continuate a commentare questi video insultando il cappello perché porta porta bene ma andiamo su premiere pro questa è la timeline della clip brutta di cui vi stavo parlando e ve la mostro un pochettino meglio ingrandiamo come avrete sicuramente imparato nel corso di montaggio video con premiere pro le timeline sono divise sempre in due parti la parte dedicata al video e o meglio dedicata al video e la parte dedicata all'audio dicevo non andiamo troppo nel dettaglio oggi magari faremo un corso ad occhio voglio mostrarvi questa clip però senza audio quindi così com'è con le immagini senza dare alcun commento sonoro a quello che sono le clip video che ho messo una dietro l'altra lo guardiamo è un tentativo di creare un video per halloween miseramente naufragato e quindi ovviamente state vedendo quello che è una bozza di un video che sarebbe poi dovuto uscire per fine ottobre ma che poi ho lasciato morire miseramente però ecco l'intento qual era era creare forse un po di suspense creare un po un'atmosfera cupa e adatta a un periodo dove l'horror la fa da da padrone ok di per sé non è niente di di eccezionale sono delle immagini che si susseguono l'una dopo l'altra c'è una foresta c'è un c'è un sì un delle montagne una foresta un ospedale con delle luci che 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 sono un po intermittenza che flickerano un laboratorio quindi un ospedale un laboratorio e delle immagini che sembrano prese da The Blair Witch Project ma non non è non è così e c'è un 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 grafico che evidenzia il battito di un cuore ok quindi tante cose che tra loro forse c'entrano poco ma che messe insieme potrebbero avere un loro senso io nel montare questa clip ho utilizzato delle transizioni video quindi non solo dissolvenze ma per esempio se guardate ho aperto il video con bam un effetto particolare che si chiama rgb shift vedete che l'immagine ai colori leggermente shiftati no oltre a partire con un con un quasi flash bianco quasi bam chiaramente c'è il titolo ho inserito altri rgb shift evidenti e meno evidenti come in questo caso eccolo qui una transizione dissolvenza per passare nella scena dell'ospedale ho infatizzato un pochettino i colori per dare un un effetto quasi ansiogeno tipo da sogno ok siamo passati con dei flash bianchi bam bam dentro un ospedale o un laboratorio o quello che preferite voi non è importante e poi abbiamo preso una alcune sequenze diciamo misteriose e messe una dietro l'altra a concludere poi il video con il logo che va a chiudere perché vi ho fatto vedere come è stato creato questo video perché noi possiamo giocare con il suono per dare una veste sonora a queste clip ok ora non voglio farvi vedere questa clip con la musica perché sarebbe troppo semplice no metterci una 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 colonna sonora angosciante come può essere quella che io ho inserito poi magari ve la farò anche sentire però voglio concentrarmi su quella che è la componente acustica no la sonorizzazione vera e propria vi faccio un esempio prima di farvi vedere com'è il risultato finale con la la sonorizzazione qui ci troviamo in un ospedale o in un corridoio con le luci che non funzionano bene e ho pensato di inserire dentro l'effetto proprio delle luci che sono rovinate che fanno quel ronzio tipico dei neon che che flickerano no e ascoltate già come cambia la cosa ok questo si intende personorizzare dare un suono alle immagini che stiamo vedendo oppure siamo nel laboratorio questo operatore sta lavorando a qualcosa potrebbe essere qualunque cosa una centrifuga o qualunque marchi ingegno presenti nel laboratorio e abbiamo dato un suono a questa clip video ok chiaramente avrei potuto mettere qualunque cosa è perché qui non siamo non sappiamo cosa sta facendo potremmo mettere un ronzio che magari stava non so friggendo qualcosa in quello che sembra un forno a microonde non è importante è importante poi in realtà quello che voi volete far intendere a chi guarda se io metto questo suono ripetitivo ecco magari possiamo far credere a chi guarda che qui dentro ci sia qualcosa che magari ruotando no genera questo questo effetto la scena successiva ho chiaramente messo un cuore in sottofondo perché c'era qui il il grafico del del battito cardiaco quindi era abbastanza ovvio mettere un cuore oltre ad un tappeto di suoni che aumentasse il senso di ansia e di angoscia ascoltate notate come io abbia cercato di far andare in sincrono il battito del cuore con questo momento no si può fare meglio ci si può lavorare poi chiaramente a chiudere sale ancora il tappeto e il cuore dissolve e tutto poi va a morire così oh chiaramente questa è la sonorizzazione più elementare si può fare molto meglio e si può aggiungere una una colonna sonora quella che state per ascoltare è tratta da anomalie l'italia occulta un progetto che prima o poi spero di potervi far vedere saluto a tal proposito il giap e mi perdoneranno se ancora non ci sono novità sul progetto anomalie e andate a cercare cos'è anomalie l'italia occulta su youtube o su instagram su facebook e vedete di cosa sto parlando ma non è importante è importante che adesso accendiamo anche la traccia della colonna sonora e vediamo come questa clip adesso si sia trasformata in qualcosa che ha una sua veste sonora non dico una bella veste sonora ma quantomeno ha una veste sonora guardiamo sonora ma quantomeno ha una veste sonora ma quantomeno ha una veste sonora ma quantomeno ha una veste ok si può fare meglio certo che si può fare meglio si deve fare meglio tutto sta nell'idea che avete e nella capacità che avete di crearli da voi i suoni o di andarli a cercare online come si fanno a creare i suoni beh può sembrare difficile ma pensateci bene in realtà fare dei suoni poi non è così complicato serve solo un po di fantasia per esempio io qui ho una bustina con una volta in una plastica sostanzialmente la metto vicino al microfono e può diventare praticamente qualunque cosa non so ho un accendino voglio rubare il suono dell'accendino che si accende lo registro e può diventare un mio suono andate per strada e camminate prendete un microfono registrate i vostri passi può diventare un suono questo è un modo molto divertente anche per creare le proprie librerie sonore in autonomia e magari faremo qualche lezione qualche corso qualche tutorial anche su questo argomento perché è molto interessante il lavoro del rumorista è un lavoro ovviamente complicato io lo sto banalizzando tantissimo servono esperienza e conoscenza anche di come funzionano le tecniche per riprendere il suono e non è affatto scontato e non è affatto banale ricordo che in matrix quando dovevano fare il suono dei colpi no quando si prendevano a pugni e nel film si sentono proprio quei rumori di colpo ecco cosa facevano i rumoristi per riprodurre quel suono prendevano dei pezzi di carne sapete quelle che si trovano nei macellai prenderono delle mazze da baseball e pam colpivano forte e registravano il rumore del colpo della mazza da baseball sulla sull'animale morto non me ne vogliono i rumoristi ma quello è non me ne vogliono gli animalisti non i rumoristi gli animalisti ma questo è quello che è successo e hanno così poi chiaramente registrato e creato l'effetto dei colpi no sulla pelle durante durante matrix ma si potrebbero fare migliaia di esempi per il signore degli anelli nella scena dei teschi che cadono quando la compagnia meglio quello che rimane dalla compagnia in realtà credo che fossero solo aragorn e non ricordo chi altro in questo momento andarono nel regno dei morti e c'è una valanga di teschi che cadono tutti e addosso ad aragorn ecco il rumore che si sente sono noci noci fatte cadere in grande quantità e rallentate chiaramente poi lavorato l'effetto va lavorato davano la sensazione di un enorme valanga di teschi che cadeva chiaramente il lavoro del rumorista è molto complicato e quello che abbiamo fatto questa sera è un esempio veramente semplice stupido no per farvi vedere quanto possa poi anche essere divertente dare un suono ad una clip video se non vi va di crearvi la vostra libreria o non avete un microfono per registrare adeguatamente dei suoni non vi preoccupate perché online potete trovare delle risorse anche gratuite a cui attingere per per prendere un po di suoni uno dei siti che io vi consiglio di visitare il link lo metto nella descrizione di questo video ma se ne conoscete altri commentate e aggiungeteli qui sotto a questo video dicevo uno dei siti che offrono suoni gratuiti anche prodotti dagli utenti è free sound ovviamente guardate sempre bene la licenza prima di utilizzare questi suoni se sono suoni che servono per voi vanno più che bene non dovete chiedere permesso dovete solo registrarvi gratuitamente a questo sito ma se dovete utilizzare questi suoni per un progetto assicuratevi sempre che la licenza ve lo consenta detto questo se cercate la parola chiave ecco ve la faccio vedere perché non so no ecco transition sì ok ma se cercate vediamo se mi ricordo swosh swosh guardate come sbaglio perché non ricordo mai si swosh ok trovate una serie di effetti carini utili per per esempio a utili nelle transizioni vi faccio ascoltare un esempio ok queste sono swosh transizioni ok un esempio oppure ok sono suoni che possono essere utili quando si deve per esempio sottolineare una transizione oppure cercate rain rain chiaramente vi darà l'effetto della pioggia ok poco chiara cerchiamone un altro ok cerchiamo per esempio un tuono come si dice tuono in inglese se non ricordate cercate traduzione su google cercate la parola tuono lo faccio per non fare figuracce chiaramente non dall'inglese all'italiano ma dall'italiano all'inglese thunder ok anche per la per la per lo spelling corretto cercate la parola thunder qui in questo sito e trovate delle cose fantastiche per esempio ok se dovete sonorizzare una clip che prevede della pioggia e dei tuoni magari potete mettere insieme l'effetto della pioggia l'effetto del tuono e creare ok capito qualcosa di entusiasmante poi sta a voi alla vostra alla vostra fantasia cerchiamo per esempio fire per fuoco ok vediamo cosa esce fuori ok magari vi trovate a dover sonorizzare una scena di alcune persone che sono sedute attorno a un fuoco e questi suoni possono aiutarvi ok sicuramente vi aiutano o per cortesia evitate di cercare suoni a basso sempre rate lavorate sempre al sempre rate più alto possibile così come anche la profondità dei bit evitati di utilizzare se possibile bit def bassi ok più alto è la più alta è la profondità dei bit meglio è anche per la post produzione ora non entriamo nel dettaglio in altre parole cercate sempre la qualità migliore possibile anche l'uso dei canali no ci sono dei clip mono clip stereo ma clip anche con 46 canali possono essere di aiuto se volete creare per esempio un suono quadrifonico no per esempio che vada su quattro casse due davanti e due dietro ora vediamo se qui non credo si senta più di tanto ma vediamo cosa anzi sicuramente stiamo trasmettendo in stereo quindi chiaramente non ce ne accorgiamo ma se io andasse a scaricare questa clip ok che dovrebbe avere quattro addirittura o sei canali adesso non ricordo e la vado in premiere pro vediamo qual è quella che abbiamo appena importato allora eccola qua guardate questa clip a quattro canali audio che poi in realtà due mi sa che sono vuoti però per dirvi che potete trovare su questo sito ecco qui era spenta potete trovare su questo sito veramente tanto materiale più o meno gratuito ripeto perché comunque le licenze poi sono specificate accanto a ciascun nome e vi viene spiegato se potete utilizzare la clip solo per un uso non commerciale o un uso commerciale il link a questo sito ripeto ve lo metto nei commenti quindi nella descrizione quindi non vi preoccupate free sound si chiama cercatelo comunque su google e sicuramente lo troverete eccoci questa non voleva essere una lezione esaustiva sull'argomento sonorizzazione so già che qualcuno metterà un non mi piace ma io cercavo qualcos'altro speravo che ci insegnasse a sonorizzare eh sì se qualcuno vi insegna a sonorizzare in 15 minuti fatemelo conoscere perché voglio voglio imparare anch'io come si fa in 15 minuti era una veloce introduzione a un argomento che in realtà è molto più complesso di così e merita molto più tempo di quanto noi ne abbiamo dedicato questa sera o quest'oggi che comunque è già è già abbastanza se volete imparare però ad utilizzare premier pro oltre al corso gratuito che trovate ancora qui su questo canale youtube sto organizzando delle classi ad un numero ristretto di persone a pagamento in cui ci concentreremo ad imparare premier in maniera live ed interattiva quindi in altre parole qui su youtube ci sono i tutorial gratuiti e c'è praticamente tutto però per chi volesse imparare meglio ad utilizzare premier può partecipare a questo corso online che sto organizzando su skype o su zoom in cui in maniera interattiva condividendo gli schermi cercherò di seguire personalmente l'apprendimento di chi vorrà ad utilizzare premier pro il corso ricosterà 350 euro non è proprio troppo economico ma nemmeno troppo troppo costoso paragonato ad altri corsi che ho visto online in giro che costano molto molto di più quindi è una via di mezzo 20 ore di corso dedicato a premier pro dalle basi ai concetti avanzati lo faremo qui online su skype o su zoom molto probabilmente il mercoledì e il venerdì sera o il mercoledì e il sabato mattina se volete pre registrarvi al corso scrivetemi una email ad info chiocciola fabbiambrosi.it o venite sul sito fabbiambrosi.it nel menu in alto a tendina c'è il link al corso online di montaggio video con premier pro e lì ci sono tutte le informazioni che vi sto dando in questo momento se avete voglia cercatemi su facebook cercate la pagina fabbiambrosi sono presente anche su instagram anche lì cercate fabbiambrosi iscrivetevi se non lo avete ancora fatto a questo canale youtube mettete un like commentate condividete grazie e al prossimo video tutorial ciao